buongiorno a tutte e a tutti oggi sabato 19 vi presento un romanzo molto intenso e tragico di david peace che si intitola gb 84 pubblicato dal saggiatore gb 84 sta per gran bretagna 1984 e in questo romanzo david peace racconta la storia dello sciopero dei minatori uno sciopero che ha segnato la storia dell'inghilterra e non solo perché a fronte del tentativo del governo thatcher di chiudere le miniere di carbone i minatori diedero vita uno sciopero durato 53 settimane che alla fine persero come potete vedere il romanzo è anche strutturato in una maniera abbastanza anticonvenzionale perché accanto alla storia diciamo ufficiale viene raccontata la storia in particolare del quotidiano di due minatori e di tutte le loro tribolazioni dei picchetti della violenza dei poliziotti delle squadracce mandate per cercare di combattere e sconfiggere questo sciopero è un romanzo che vi consiglio perché una maniera narrativa di imparare un pezzo di storia che riguarda anche noi